La Corte dei Conti, sezione di controllo al termine della Camera di Consiglio, ha disposto la sospensione del giudizio sul rendiconto generale 2019 della Regione, ma solo per la parte della questione della legittimità di alcuni articoli di due leggi regionali e al tempo stesso ha chiesto riequilibrio economico nella sanità, che investe ben 2,4 miliardi di euro, l'80% del bilancio regionale, pur riconoscendo, hanno detto tutti i magistrati contabili, gli sforzi fatti. Il procuratore generale Antonio Giuseppone ha sostenuto che l'esame del rendiconto ha evidenziato diversi profili di criticità. Questa mattina online c'è stata l'udienza alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2019, che è in esame anche la spesa sanitaria, udienza presieduta dal presidente della sezione regionale di controllo Stefano Siracusa, ribadito il buon risultato di amministrazione alla fine del 2019 della Regione, effetto dell'aumento delle entrate e delle minori spese. La sezione di controllo ha analizzato il bilancio delle ASD, dell'Agenzia Sanitaria Regionale e della gestione sanitaria accentrata. L'occasione, al di là del giudizio, è stata utile per scattare una foto sullo stato di salute del sistema sanitario. Il saldo 2019 tra mobilità passive e attiva delle ASD è negativo per 84 milioni di euro. Per la mobilità extra-regionale, la sola ASD dell'Aquila è consegno più, 13 milioni di euro. La mobilità all'interno della Regione è positiva per l'ASD di Pescara. Per quel che riguarda invece le gestioni delle singole ASD, ci sono disavanzi in tutte, Teramo compresa che invece, ha ricordato il magistrato, negli anni precedenti aveva avuto un andamento inutile. Per l'ASD dell'Aquila, meno 23 milioni circa. Per Chieti, meno 13,7. Per Pescara, meno 10,2. Risultato compensato con quella della GSA, gestione sanitaria accentrata, positiva per 48,7 milioni, con una compensazione che porta a meno 12 milioni. È intervenuto alla fine il presidente Marco Marsiglio, che in merito al rilievo osservato sulle troppe partecipazioni societarie, ha spiegato la questione, illustrando quelle dismesse e spiegando che dopo l'operazione di razionalizzazione potranno restare sei società partecipate dirette o anche cinque. La Regione continuerà comunque, ha concluso, a tenere bene in considerazione tutte le osservazioni della Corte.